cari amici milano 1 come vedete siamo in compagnia del generale francesco cosimato nonché presidente di sinergie ciao francesco come stai tutto bene buona giornata ai nostri ascoltatori mi permetto di dire nostri certo no no fai benissimo siamo una squadra e la squadra vince insieme dai o gioca insieme comunque ecco francesco sentire facciamo le solite il solito approfondimento aggiornamento riguardo ai temi scottanti un po della della guerra che c'è purtroppo continua ma questa storia qua non doveva essere un po finita evidentemente l'uomo propone il dio dispone erano tutti sicuri che dopo la seconda guerra mondiale non ci sarebbero state guerre mondiali guerre convenzionali così importanti ma evidentemente così non era e in questo ambito noi europei abbiamo peccato perché abbiamo ritenuto che bastasse fare delle operazioni militari per il mantenimento della pace per l'esportazione della democrazia invece da un anno a questa parte abbiamo visto la fine di una operazione peacekeeping ventennale come quella dell'afghanistan nell'inizio di una guerra convenzionale evidentemente la nostra classe dirigente i nostri metra pansè gli opinionisti con tutta questa congeria di persone che affolla i talk show e aveva poco rapporto con la realtà ma non lo dico per parlare male di qualcuno dico che quando si si è di fronte ad un conflitto così sanguinoso bisogna interrogarsi sul proprio ruolo quindi la storia non è finita e se non è finita vuol dire che noi dobbiamo considerare la guerra convenzionale come un evento attuale e possibile questa affermazione fino al 23 febbraio dello scorso scorso e avrebbe potuto essere considerata una butada di un vecchio militare in pensione evidentemente non era così la storia non è finita e per esempio nel fare il prossimo modello di difesa e bisognerà rendersi conto che le guerre convenzionali sono possibili io ripeto sempre che noi come italia ma anche come nato a mio avviso non abbiamo le forze per fare operazioni convenzionali di livello paragonabile a quelle che stanno facendo i russi in ucraina tra l'altro voglio dire cioè la cosa che fa pensare è che questa guerra convenzionale come abbiamo detto abbiamo detto sia successa in europa c'è europa che dovrebbe essere la culla della civiltà no cioè non è che siamo in mezzo all'africa o con tutto il rispetto che ho per l'africa ma in posti dove magari non c'è il rispetto per le persone qua si dice che in europa c'è c'è la culla della civiltà di civiltà rispetto in realtà è successo c'è la guerra la stiamo vedendo e qua no allora io ovviamente sono e mi sento europeo anche se in giro per l'europa non ho trovato molto europeismo ho fatto il liceo classico ho studiato il greco antico anche se non ci capivo niente il problema è che un conto è la civiltà e la sua storia tra l'altro noi in questo momento siamo in una fase in cui la cultura della cancellazione vorrebbe addirittura far sparire questo passato quindi la guerra in europa perché è scoppiata perché siamo deboli perché non abbiamo più dei valori fondanti perché definiamo diritti che probabilmente non hanno tutta questa importanza io voglio bene al mio gatto ma non sento l'esigenza di farlo considerare giuridicamente un membro della mia famiglia quindi mentre noi ci abitiamo in questioni puramente ideologiche facciamo le parole con l'asterisco ci sono delle potenze come la russia come la scena come l'india come la turchia e ovviamente come gli stati uniti che hanno un peso politico economico militare maggiore del nostro noi europei avremmo dovuto dire ai russi e agli americani la guerra in europa non si deve fare perché noi non la vogliamo però ci dovevamo pensare prima del 24 di febbraio quando i russi sono partiti invece abbiamo detto a poter che l'ingresso nella nato è un diritto di ogni nazione abbiamo detto che vengono prima le autodeterminazioni del kosovo o della catalogna o dell'irlanda del nord mentre ci piacevano di meno quelle di donetsk e di lugansk quindi la guerra è stata possibile perché gli europei non fanno squadra perché gli europei prendono ordini negli stati uniti non solo l'italia ma tutta l'europa a mio avviso si è trasformata in un protettorato americano io non sono il classico antigenchi che si conosce io parlo professionalmente inglese ho tanti amici negli stati uniti sono andato varie volte in viaggi di lavoro penso di conoscerli ma oltre ai loro pregi conosco anche i loro difetti quindi loro sono dei grandi organizzatori la cultura organizzativa anglosassana una gran cosa ma sono anche persone che coltivano l'influenza e che coltivano coltivano influenza nel senso che influenzano i governi di altri paesi per loro è normale influenzare governi di altri paesi e noi ci facciamo influenza noi europei ci facciamo influenzare sia dagli americani che dai russi e poi discutiamo se è giusto essere con biden o con putin non mi sembra molto europea questa cosa per cui se noi vogliamo come tanti dicono ci vuole più europa ci vuole ci vogliono delle forze armate europee bisogna che noi ci si senta prima europei perché se non ci sentiamo europei una volta chiesi un franco bollo per mandare una cartolina quando ancora si mandavano le cartoline ad un nos agent gallese e gli dissi lui mi chiese dove doveva mandarlo io dissi italy european union pensavo di aver detto una cosa intelligente e lui mi guardò storto e mi disse i don't trust bastard union non mi piace l'europa bastarda io ho capito perché c'è stata la brexit era solo il nos agent di cardiff ma questo sentimento c'era quindi l'europa e non ha saputo essere europa ed è per questo che c'è una guerra in europa certo senti allora a questo punto mi viene di chiederti ma cosa sono gli interessi vitali di una nazione e allora qui evidentemente bisogna recuperare un po di logica perché tutto va messo in priorità per esempio il segretario generale della della nato stoltenberg più volte ha dichiarato che l'autodeterminazione di un popolo e la richiesta di ingresso alla nato sono un'esigenza da tutelare ora io mi chiedo ma entrare nella nato per l'ucraina era una cosa così vitale era una cosa più così importante valeva la pena per questo tipo di principio stabilire che che si potesse rischiare la guerra io ritengo di no perché ciò che sono problemi di sicurezza la sicurezza si può garantire aderendo ad un'alleanza si può garantire autonomamente la si può garantire con la neutralità noi abbiamo un paese la svizzera che a fianco a noi che è neutrale ha delle forze armate e quindi ha fatto un tipo di scelta anche gli ucraini potevano fare una scelta o l'altra è chiaro che dietro gli ucraini ci sono gli americani quali probabilmente hanno ritenuto importante questa cosa per se stessi più che per l'ucraina secondo me gli interessi vitali sono quelli relativi all'energia sono quelli relativi alla disponibilità di cibo e quelli che riguardano l'accesso alle linee di comunicazione terrestri aeree e marittime e sicuramente nella in ucraina mentre si parlava della nato la questione vera era la disponibilità del mar nero e quindi tutto quello che ruota dietro la flotta del del mar nero così come nel mar baltico c'è il problema della flotta del mar baltico e dell'enclave di kaliningrad quindi a noi c'è stato detto che la questione importante per cui bisognava fare una guerra era garantire all'ucraina l'ingresso nella nato ecco io non ritengo che sia così ritengo che gli interessi vitali di un paese siano l'energia la disponibilità di linee di comunicazione e la disponibilità di cibo noi ci siamo organizzati in maniera tale che cuociamo la pasta perché prendiamo la farina in ucraina prendiamo il grano in ucraina e prendiamo il gas in russia e allora o siamo veramente capaci di prendere il grano e quindi la farina da un'altra parte oppure è ovviamente conseguentemente il gas da un'altra parte oppure non mangeremo la pasta oltretutto in questi giorni guarda caso è scoppiato il problema del grano ucraino bisogna far arrivare far arrivare il grano in africa in europa quindi molta gente morirà di fame allora se uno non ha chiari in testa gli interessi vitali propri ripeto secondo me sono questi tre beh evidente energia e cibo e linee di comunicazione è chiaro che dal punto di vista russo hanno detto anche voi ci volete togliere il mar nero è una linea di comunicazione che è importante noi facciamo la guerra non sto dicendo che sia giusto o sbagliato sto dicendo che quella questione è un interesse vitale di una nazione poi ognuno interpreti come vuole però bisognerebbe riportare nel ragionamento degli elementi di concretezza e di collegamento con la realtà i cittadini europei e in particolare i cittadini ucraini non mangiano tutti i giorni l'ingresso nella nato la nato una nobile istituzione che ha fatto tante cose della quale io ho fatto parte più volte quindi chiaro che io non ho niente contro la nato sono stato portavoce del comando nato direzione rapida in italia quindi figuriamoci se io posso avere qualcosa contro la nato ma evidentemente il concetto di interesse vitale è un'altra cosa certo perché poi c'è alla fine a fiera c'è anche la questione dell'embargo del gas russo cioè che fine ha fatto l'embargo del gas allora l'embargo del gas russo è ancora appeso perché a me risulta che grosso modo paesi come la germania e l'ungheria abbiano veramente un'autonomia molto limitata si parla di una settimana dieci giorni per la la germania cioè se i russi chiudono i rubinetti tra una settimana dieci giorni i tedeschi non avranno più il gas e beh è un bel problema gli ungheresi che sono ancora più a est evidentemente hanno l'esigenza di garantirsi le loro fonti essendo parte di una comunità che è un po più a est loro sono l'ala orientale dell'unione europea quindi è chiaro che probabilmente guardano di meno negli stadi uniti anche queste sono cose importanti la pianificazione di un sistema energetico si fa per durare 20 o 30 anni non si può dire cambio il gestore del gas sì io a milano come consumatore posso decidere di passare dal gestore del gas della ditta a al gestore del gas della ditta b ma il gas viene sempre dalla russia certo quindi non sia mai i russi chiudono ai rubinetti noi non riscaldiamo più niente non facciamo più energia perché poi il gas non si usa solo per cuocere la pasta ma rientra nel nel sistema che produce l'energia quindi l'europa si è impegnata in sanzioni che non hanno senso perché sono suicide noi dovremmo essere il nostro ministro è andato in africa prendere del gas liquido ma evidentemente poi ci vogliono degli impianti di riassificazione mi risulta che ne abbiamo due in funzione uno che è quasi pronto e poi gli altri si devono si devono mettere in piedi noi abbiamo dei giocimenti di gas che non sfruttiamo perché il gas russo costava di meno ma costa di temente abbiamo fatto degli investimenti un altro senso non saprei cosa dire l'embargo è una cosa suicida speriamo che non si consumi quest'atto certo certo senti a me è capitato spesso di sentire la definizione guerra ibrida è questa quella che stiamo vivendo noi la guerra con il tempo chissà perché riesce sempre a peggiorare riesce sempre ad avere caratteristiche sempre più letali quindi con un carico maggiore di morte di sofferenza perché una volta la guerra era due signori che si incontravano in una pianura e combattevano perché c'avevano il cavallo che era l'equivalente della macchina poi il numero di queste forza è sempre cresciuto anche perché dietro c'erano appunto dei signori che pagavano che qualcuno che gli prestava dei soldi poi con la rivoluzione francese siamo arrivati agli eserciti eh nazionali siamo arrivati alla leva eh siamo arrivati quindi ad avere milioni di persone che si scontravano con armi sempre più eh sofisticate poi eh i nazisti hanno inventato la propaganda per cui nella seconda guerra mondiale c'è stato anche un uso esteso della propaganda poi questo si è esteso adesso abbiamo le operazioni di influenza abbiamo acquisito nuovi domini di eh di lotta nuovi spazi nei quali si lotta lo spazio cibernetico eh lo spazio vero e proprio lo spazio extraterrestre perché ovviamente si parla di satelliti che colpiscono altri satelliti e così via eh quindi la guerra eh viene definita ibrida perché mette insieme in maniera molto più stretta ed interconnessa elementi che una volta erano separati una volta si diceva che c'era la spada e il mondo quindi la spada era una forza militare il mondo era la diplomazia in questo caso spada e mondo hanno tanti altri eh compagni di strada che sono le operazioni di informazione che sono la guerra informatica nello spazio cibernetico che sono i sensori che ci ci guardano dallo spazio e soprattutto l'elemento nuovo direi di questa di questa guerra in Ucraina è l'uso esteso dei media per generare paura nelle popolazioni degli stati avversari quindi che succede che abbiamo nuove vittime della guerra abbiamo quelle che venivano uccise prima più quelle che vengono vessate adesso molta gente non guarda la tv perché eh non vuole sottoporsi a trasmissioni scioccanti che eh che poi fanno star male quindi la guerra ibrida è eh al di là delle definizioni che sono piuttosto ehm generiche e poco concordate cioè non c'è ancora una definizione di guerra ibrida mh accettata internazionalmente ma la guerra ibrida si può definire io provo a definirla come eh l'inserimento nella nella guerra di qualsiasi dominio possibile di qualsiasi risorsa possibile e che è una cosa che distrugge poi tutti sul piano economico sul piano sociale sul piano politico sul piano militare sul piano cibernetico quindi la guerra è riuscita eh diventando ibrida ma addirittura a peggiorare certo senti tu come la vedi la fine di questa guerra ci sarà a breve o sarà ancora lunga perché poi alla fine ci sarà da lecarsi tutte le ferite perché poi bisognerà aiutare l'Ucraina a ricostruirsi quindi saranno altri costi e che saranno poi a carico di tutti i paesi europei perché sarà così no? Infatti ora il discorso è in questi termini io ripeto quello che ho detto in altre occasioni e cioè che mi pare che l'interesse rotto sia quello di acquisire completamente gli accessi al mare quindi mi aspetto una eh non solo una prosecuzione dello sforzo militare nel Donbass quindi Donetsk e Lugansk ma mi aspetto anche un tentativo di ehm conquista di Odessa nel momento in cui eh mi ripeto purtroppo perché l'ho già detto in altre occasioni qui nel momento in cui i russi dovessero avere il Donbass oltre alla Crimea che hanno il corridoio di Mario Polo da una parte il corridoio di Odessa dall'altra verso la Transnistria eh la situazione si congelerà mh in questo momento non vedo ehm la diplomazia capace di far qualcosa sì c'è stato eh questo evento a Torino eh in cui il ministro Andi Maio avrebbe proposto un piano di pace sì ma se il piano di pace lo proponi a Torino è difficile che a Mosca ti diano retta cioè o prendi visto che sei ministro degli esteri il tuo aereo che ce l'hai te l'abbiamo dato e te ne vai a Mosca però se a Mosca non ci puoi andare perché hai detto che Putin è un animale fare i piani di pace mi sembra abbastanza inutile quindi temo purtroppo che eh si arriverà a un punto in cui per consunzione per mancanza di di proiettili non saprei cosa dirti eh o per il ragionamento degli obiettivi minimi territoriali eh il conflitto si congelerà eh e a quel punto si potrebbe andare avanti come è successo in Corea anche questo l'ho detto cioè nel 56 è finita la guerra cioè sono finite le operazioni militari ma eh la guerra di Corea di fatto in teoria non ha non ha un trattato di pace quindi potrebbe succedere una cosa del genere anche in Ucraina e è chiaro che le dichiarazioni di Zelensky che dice noi non faremo concessioni territoriali mi sembrano un po' irrealistiche perché eh i russi quello che volevano se lo stanno prendendo e se tu non glielo vuoi dare ma quelli ce l'hanno già il discorso mi sembra piuttosto povero da un punto di vista intellettuale anche perché onestamente fino a qualche giorno fa sembrava che l'Ucraina stesse stravincendo contro i russi che i russi erano anche un po' in disastro questo era quello che che passava no dal maestrin diciamo quando il cos'era il presidente eh Michel eh del Parlamento europeo è andato a dire no quella è Roberta Mezzola eh comunque è un altro dignitario europeo è andato a dire che bisognava far vincere l'Ucraina ora su questo sull'uso della parola vittoria ne abbiamo già discusso uno può dichiarare vittoria quanto vuole poi la fa la figura del giornalista iracheno che dice stiamo vincendo stiamo vincendo gli passa un carro armato americano dietro e lui scappa cioè siamo allo stesso livello parlare di vittoria di eh eh de Bellazio eh quindi paragonare quello che sta succedendo ora alla vittoria sulla Germania del 1945 mi sembra improprio tutti quelli che parlano di vittoria stiamo vincendo gli ucraini eh possono vincere eh secondo me rendono un pessimo servizio alla collettività. Va bene Francesco io ti ringrazio come sempre è stato un piacere un onore averti qua con con noi eh ovviamente ci sentiamo settimana prossima se ti fa piacere a me molto e quindi grazie a te per tutto l'accordo. Io spero di eh contribuire alla formazione delle opinioni con dei contenuti oggettivi perché quando sempre più raramente accendo la televisione o accedo ai media sento troppa propaganda. Io vengo dal mondo dell'influenza mi sono influenza mediatica intendo e non mi piace non mi piace perché evidentemente eh noi veniamo fatti oggetto di messaggi distorsivi eh la guerra è una cosa brutta bisogna guardare guardare il più oggettivamente eh possibile la mia opinione conta poco contano però i concetti che regolano i rapporti internazionali e che non dovrebbero mai scendere dal piano diplomatico al piano militare. Quindi per questa cosa sono sempre a disposizione di Milano uno. Grazie mille. Eh i nostri amici eh apprezzano questa cosa. Io ti ringrazio eh ci sentiamo e ci vediamo settimana prossima. Ciao Francesco. Ciao Paolo. Salve tutti. Grazie. Ciao. Ciao.